Il palasporto di Cuneo, sabato 20 e domenica 21 maggio 2023, si è svolta la terza gara regionale di ginnastica ritmica, con la partecipazione di circa 300 atlete provenienti dalla regione Piemonte. Organizzata dai CS Piemonte, ha attirato un folto pubblico che ha riempito le tribune per sostenere e applaudire le giovani ginnaste. La competizione ha offerto un panorama eccezionale della disciplina, con esibizioni che spaziavano dalla routine con il nastro alle evoluzioni con la palla, dalla performance con le clavette alle movenze con la fune. Ogni atleta ha dimostrato una padronanza tecnica e una grande precisione nell'esecuzione degli elementi, lasciando il pubblico senza fiato. Tutto questo grazie anche alla collaborazione dello staff. Un plauso particolare va alla referente regionale della ginnastica ritmica Giussi Fasano e dal responsabile dello sport di ICS Piemonte Antonino Cartisano. Il finale per origine è la sua preparazione di Bernardi. Il finale per il finale per l'interno di ICS Piemonte Schermone. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti